Il mio dipartimento ha una forte vocazione internazionale e attraverso la didattica, i laboratori o il programma Erasmus ti dà le chiavi per conoscere il mondo e ti permette di avvicinarti a realtà diverse dalla nostra. Si può scegliere tra due lauree triennali e due lauree magistrali, tutti i percorsi ricchissimi nei quali si può studiare lingue, letteratura, traduzione, didattica, linguistica, relazioni internazionali, comunicazione e tanto altro. I corsi del dipartimento sono disponibili anche online sulle piattaforme digitali messe a disposizione dall'Ateneo. In realtà i miei ricordi più belli non sono legati a eventi o situazioni particolari e concrete, piuttosto sono le cose che ho imparato su di me, sugli altri e sul mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.